ciao a tutti amici di youtube luna rossa family benvenuti bentrovati per un nuovo video oggi vediamo pensate ad una persona ecco magari ecco vi arriva una risposta in questo senso sicuramente ascoltando tutta la lettura qualcosa che vi risuona ci sarà quindi la lettura vale sia per gli uomini che per le donne sia che voi sia tetro che arcobaleno ovviamente io parlo al femminile perché per il mio genere vi identifico con la consultante però tenete da conto che trasportate tutto ecco per il vostro genere allora vediamo prima di tutto questa persona che voi state pensando e che messaggio vi vuole arrivare dalle carte oggi cosa viene fuori cosa dovete sapere come vi vede questa persona come ti vede e anche vediamo in realtà tu come sei e cosa non ha capito questa persona di te della tua personalità allora come ti vede come sei e cosa non ha capito ok abbiamo qui Mary fields vedi questa è una donna che la vedete così di colore no quindi nacque come dire con schiava poi ci furono ecco tutte quelle lotte diciamo ecco che se si può dire così tra virgolette visse un tempo di transizione tra la schiavitù e la tra virgolette ecco libertà anche se c'è sai anche se comunque ecco ci sono le lotte di cui lei non fece parte a dire la verità no però c'è sempre quel retaggio culturale prima che con le nuove generazioni si passi a dei livelli successivi no vedi lui ti vede come questa Mary fields quindi come una persona che a dire la verità non avrebbe avuto sulla carta chissà quali possibilità dal suo punto di vista no quindi uno magari perché hai delle fragilità perché evidentemente ci sono evidentemente dei punti a sfavore nella nella tua situazione esistenziale per cui cosa vede e che cosa vede della tua personalità il fatto che sei una lottatrice vedi Mary fields era una donna del suo tempo che vestiva con i pantaloni a prescindere dai dibieti da tutto ottenne addirittura il permesso da parte del sindaco di poter andare a bere al bar che non si poteva fare né per le donne di colore nemmeno proprio perché erano donne fu la prima postina diciamo ecco proprio mi pare addirittura di tutti gli stati uniti quindi pioniera tra virgolette del mondo del lavoro è anche una donna che molto coraggiosa aveva da insomma ecco ci fu una notte per esempio che arrivarono dei lupi a minacciare il suo greggio non so degli animali che le aveva e lei rimase tutta la notte a guardia del suo chiamiamolo greggio diciamo ecco a fronte delle della pericolosità che poteva esserci anche per lei quindi una persona molto coraggiosa camminava con una revolver faceva pugni insomma in qualche modo ti dà conto che questo ti vede come un maschiaccio se proprio la vogliamo mettere in questo modo che quindi voglio dire cioè al più temerario e delinquente tra virgolette ecco degli uomini come si suol dire gli fai un baffo cioè non hai paura di nulla ti vede una persona come dire ecco impavida cioè che cammina dritta con la sua schiena e se ne frega anche di quello che pensa la società in questo senso rispetto a quelli che possono essere i ruoli che so di genere o i ruoli che ti assegna o che ti ha assegnato la società e anche di cui lui stesso dice caspita ma com'è possibile rispetto ad un suo in questo senso ecco pregiudizio in realtà probabilmente colui ti vede così ha fatto questa summa ma qua tu invece sei magari un po così ma principalmente tu sei come cotavia battler questa è una donna che si occupa di come dire ecco di giornalismo se non mi ricordo male una scrittrice più che giornalista era una donna che patì nel suo tempo tra virgolette con la dislessia cioè quindi non era una persona che si esponeva in questo senso in prima fila come invece a quanto pare questa Mary Fields quindi così impavida invece questa rimaneva si nascondeva dietro la penna mettiamola in questo modo cioè nascondeva tra virgolette la sua capacità di dire le cose al mondo non mettendoci la faccia nel senso che non voleva in questo senso il palcoscenico ma comunque dicendo ecco la sua e avendo un carattere in realtà timido e sognatore che trasmutava appunto attraverso appunto la penna no era una persona come dire co malinconica quindi in realtà si direbbe che tu hai tutti questi punti cioè nella serie non che tu non abbia abbastanza stima di te cioè ce l'hai la stima di te però non ti piace essere al centro dell'attenzione a dire la verità in qualche modo ecco anche quando devi dire qualcosa non sei una persona impulsiva come invece Mary Fields invece ci pensi la scrivi la ragioni cerchi di esporti anche nella maniera più corretta quindi si direbbe che se anche la persona che mantiene una certa etichetta se vogliamo in realtà partiamo dal presupposto che per degli aspetti sicuramente sarai coraggiosa ma per degli altri assai probabilmente questa persona ti ha frainteso o ha frainteso ecco la tua personalità cos'è che non ha capito di te qui abbiamo Mary Curie praticamente questa è una insignita del premio Nobel quindi parliamo ecco di una persona che anche in questo caso è pioniera rispetto ad un preciso settore quindi sicuramente questa lui non ha capito di te che tu sicuramente ecco sei pioniera ma non perché fai la spaccona come magari in qualche modo ecco vorrebbe derubricare lui la tua personalità ma perché sono anche le circostanze della vita che ti hanno portato ad essere o a fare determinate scelte vede vedi Mary Curie a differenza di Mary Fields che rimane lì dove è nata dove dove era il suo ambiente doveva sempre vissuto invece Mary Curie cambia addirittura città nel senso che cerca o se anche se tu non hai cambiato città cioè sei una persona che comunque cerca di esplorare il mondo e di andare e di vivere nelle situazioni dove tu ti puoi esprimere al meglio è proprio questo che questa persona non ha capito cioè che tu non vuoi fare la spaccona come dire ecco perché devi imporre il tuo modo di essere il tuo modo di vivere assolutissimamente non ha capito evidentemente l'assertività del tuo carattere il tuo modo di fare ecco probabilmente ecco avrai utilizzato qualche maniera dura o davanti a qualche tu o no questa persona si è evidentemente diciamo impietrita evidentemente è abituato magari ecco a delle persone un po più un po più liquide un po più morbide vediamo chi è questa persona a questo punto allora vediamo archetipi e attitudini maschili qui non ci alziamo diciamo che ha dei livelli un po così profondi però vediamo un po tu cosa hai capito di questa persona com'è questa persona è quello che invece non hai capito che cosa non ti è arrivato della sua personalità allora ecco per te questa è una persona come dire ecco che nutre delle speranze probabilmente sperava anche molto in te o si appoggiava molto a te o sperava delle cose rispetto alla vostra relazione in realtà quindi questo anche potrebbe significare che questa persona in qualche modo ti abbia anche convinto ad entrare in questo rapporto e che magari in una fase iniziale tu potevi non essere totalmente interessata a dire il vero vediamo chi è qual è la sua personalità qui abbiamo un hipster ecco a dire la verità questo vive il qui e ora il momento gli piace stare con gli amici gli piace un po divertirsi prendere la vita se vogliamo ecco con una leggera con una certa leggerezza non è una persona che ama prendersi degli impegni e ama anche a dire un pochettino passare la giornata ad ammazzare il tempo non è proprio uno che dice ho tutte queste grandi ambizioni a dire la verità vediamo tu che cos'è che non hai capito anche qua già si coglie subito il misunderstanding che cos'è che non hai capito della sua personalità ok non hai capito che questa persona come dire ecco è una persona rispettabile quindi probabilmente l'avrai anche squalificato o in qualche modo questo si sarà sentito ecco squalificato è uno che fa in realtà lui lo spaccone ecco perché l'ha proiettato su di te non hai capito che questa persona ha dei valori non hai capito che questa persona vuole essere una persona che fa le cose bene una persona che fa le cose giuste una persona rispettabile questo è quello che ti dicono le carte quindi in realtà sembrerebbe che questa persona i valori li ama non te li ha fatti arrivare a dire il vero a dire il vero o perlomeno tu non hai capito queste cose di questa persona anche in relazione al fatto che probabilmente l'unico volto che ti ha fatto vedere è proprio quello del lipster come è realmente anche se tu tutto sommato cioè hai colto il senso della speranza forse di essere figo cioè di essere una persona come dire correalizzata nella vita ok andiamo a vedere con queste carte vedo se sta registrando sì cosa c'è ecco per il mezzo tra di voi vediamo un po' cosa c'è per il mezzo tra voi due in questo momento diciamo ecco ci mettiamo un po' il termometro in questo amore in questo rapporto escono due carte anzi ne riesce più di una a dire la verità beh escono troppe allora vediamo un po' allora ok qui abbiamo a dire la verità l'intromissione quindi qua a dire il vero l'intromissione significa che si sono messe di mezzo altre persone che magari ci sono persone che hanno messo bocca che hanno giudicato il vostro rapporto e che uno o entrambi hanno certa di dove avete preso delle decisioni o siete arrivati come dire qua a litigi a Mary Fields o diciamo a questo hipster o pseudo figo fondamentalmente è perché qua la cosa era un po' chiacchierata è come se altri volevano vedere come andava a finire o come procedeva c'era una sorta di rendicontazione dove appunto qualcuno si intromette interferendo in maniera tale che il rapporto comunque è condizionato o perché diciamo deve fare delle cose e non le fa o perché fa delle cose che non dovrebbe proprio fare vediamo dal tuo punto di vista dal tuo punto di vista ok ecco tu come dire hai maturato la convinzione a proposito di maschere che questa persona con te avesse delle cattive intenzioni quindi assai probabile che una certa ti sia messa sulla difensiva vediamo questa persona ops ops non mi scivolate non mi scivolate che per raccoglierle è veramente un casino ok dal suo punto di vista invece questa persona ti correva dietro ecco dice io ti corro dietro e magari poi a una certa ecco tu hai inteso questo correrti dietro come se avesse un secondo fine come se avesse appunto delle cattive intenzioni e non erano esattamente come dire ecco l'amore o l'innamoramento vediamo in realtà come stavano le cose al netto di queste intromissioni magari come stavano le cose al netto di queste intromissioni ok ecco a dire la verità qua eravate un pochetto sulla difensiva questo per un motivo tu per un altro motivo quindi forse eravate due persone troppo abituate che so ad essere un po' individualiste un po' troppo diciamo ecco prese non dico da voi stessi ma proprio con la paura dell'altro uno magari ecco di perdere la faccia davanti magari che so questa gente che si intromette se non avevano niente a che fare con te e tu dici aspetta dici io ho a che fare qua con una banda con un clan se l'hai capito ovviamente di sicuro banda o clan di sicuro qua comunque c'è qualcuno che ha permesso in qualche modo con determinate intromissioni è una certa dice questi che vogliono da me vediamo come stanno le cose tra voi due allora vediamo un po' cosa c'è nella tua testa cosa c'è nella sua testa quali sono quindi i vostri pensieri allora vediamo questo cosa pensi invece di te a fondo mazzo abbiamo la perdita il rimpianto quindi qua con questo cinque cinque di bastoni fondamentalmente quello che può essere stato è che siete entrati in conflitto perché uno voleva avere ragione sull'altro quindi siete entrati proprio letteralmente in rotta di collisione ma anche con questo senso di non mettersi in gioco in realtà come chi pensa ok se do cinquanta centimetri vado in perdita e non me ne voglio neanche pentire di dare tutta sta fiducia o di dare chissà che cosa amore poi fondamentalmente di entrare davvero nel rapporto quello che pensi tu guarda qui c'è un nove di quadri quindi a dire la verità tu comunque sei una persona con la schiena dritta e con questo sette di bastoni si vede che comunque è vero un pochetto meri filtro sei nel senso che non sei una che si mette a litigare ma sembrerebbe anche che tu abbia subito delle provocazioni e in qualche modo le abbia anche dovute schivare diverse provocazioni no? ti è sembrata questa persona un po' caotica un po' uno che non si comporta bene una persona un po' a volte ingenua a volte sciocca a volte superficiale a volte questo che cosa vuole dove vuole arrivare questa persona invece qua mi arriva intanto con ti faccio notare che coppe non ce ne stanno né qua né là il pensiero che ha attualmente questa persona o comunque che ha maturato ha a che fare con il sette di quadri e anche un cinque di quadri vedi qua sono carte che parlano comunque ecco di denaro di guadagno e poi abbiamo anche un paggio di un paggio di spade allora vedi il fatto è questo questa persona a dire la verità forse ti aveva pure puntata e ti ha puntato probabilmente ecco per un po' magari anche dopo il misfatto se c'è stato un misfatto diciamo principalmente a questa persona lì per lì era tratta dal tuo benestare parliamoci chiaro dal fatto che da parte tua ha visto un certo benessere e anche il fatto che con la tua chiamiamola benestanza potevi aiutare questa persona potevi essere sicuramente con un punto di sostegno un punto di appoggio tieni da conto che qua però abbiamo visto che abbiamo a che fare con un hipster quindi magari tu lavori 16 ore al giorno e questo lavora sennò 3 ore oppure campo con reddito di cittadinanza sinceramente questo non te lo so dire o con un sussidio di disoccupazione sinceramente non lo so non lo vado neanche a chiedere il fatto sta che a questa persona a dire la verità gli piaceva la tua benestanza perché qua abbiamo il 9 di denari quindi la single perfetta quella che se la passa bene ok vediamo però cosa c'è nel suo cuore cosa c'era ecco nel tuo cuore per questa persona cosa c'è nel suo cuore per questa persona per te quindi c'è reciprocamente non so come l'ho detta e vediamo un po' anche di comprendere un escursus in questo senso prima durante adesso quindi una certa progressione che ci può essere stata vediamo prima di tutto te questa persona invece e a fondo mazzo qua abbiamo il 6 di bastoni quindi questa è una carta che parla di di riuscita di una vittoria di un come dire di prendersi delle soddisfazioni è come se in qualche modo ecco entrambi sapevate a monte che comunque questa cosa poteva essere difficile c'erano già delle difficoltà e bisognava comunque superare ecco degli ostacoli ma quantomeno c'era da parte di entrambi un certo ottimismo se no giustamente non avreste manco iniziato guarda a dire la verità ti dico qua si vede che in una fase iniziale magari se alle prime magari non ne volevi proprio sapere niente però al momento in cui diciamo è scattata è scattato un qualcosa dentro di te qua si vede che diciamo ecco tu questa persona come dire l'hai scelta e l'hai accolta nella tua vita forse per qualcuno di voi ci può essere anche stato per il mezzo una di quelle situazioni in cui uno pensa di aver incontrato una fronteparte animica quindi una fiamma gemella un'anima gemella perlomeno nella fase iniziale sembrava che eravate totalmente in sintonia e quindi per te è stato molto semplice tutto sommato diciamo ecco entrare o fare entrare questa persona in quella che può essere il tuo spazio di fiducia no? però poi a una certa qua come vedi abbiamo il nove di il nove di bastoni ed il nove di bastoni è una carta che parla di come dire ecco una barriera cioè il mettere dei confini dei confini perché probabilmente dall'altra parte già questa persona evidentemente ti ha dato qualche bastonata e quindi volevi in qualche modo diciamo ecco mettere dei paletti volevi mettere delle regole comunque ecco delle regole non per educare la persona ma per evitare diciamo ecco delle invadenze delle pretese per evitare di farti male perché evidentemente se sei partita così e poi sei andata al nove di bastoni la bastonata l'hai presa infine diciamo qua vedi il tuo cuore arriva ad essere re di bastoni intanto il re è colui che come dire correalizza diciamo quando gli fanno un torto il re di bastoni è uno che tende a perdonare o tende anche a chiedere scusa se ritiene di avere sbagliato quindi cioè in questo senso tu te lo sei fatto il tuo ragionamento ma dove ho sbagliato io si sbaglia in due ha sbagliato anche questa persona per te non sarebbe un problema a dire la verità in ogni caso diciamo ecco chiarire determinate cose se potesse accadere però il fatto è uno questa persona ti ha anche fatta arrabbiare cioè è come se tu non ti fossi sfogata veramente per come avresti dovuto quindi non dico che te la sei legata al dito però ancora stiamo parlando sempre di qualcosa che ha a che fare con un fuoco quindi ha bisogno come dire ecco di mangiare questo fuoco no e quindi di di spegnersi anche di spegnersi questo l'hai realizzato quindi sei anche stabile in questo senso rispetto a questo tipo di emotività questa persona invece in una fase iniziale mi arriva come una donna di spade quindi può essere una persona che si è agganciata a te perché magari si sentiva sola era stata lasciata per esempio o questo ti ha detto o comunque si sentiva come dire una persona sfortunata in amore come chi aveva dato tutto e poi per una serie di eventi sfortunati non dipesi da lui diciamo le cose sono andate diversamente da come avrebbe voluto insomma in qualche modo ti ha agganciato con un senso di pietà o di pietismo o di vittimismo ecco poi questa persona quando si è messa insieme a te a dire la verità era felicissima perché era riuscita in questo esito ok però abbiamo anche un tre di coppe il tre di coppe è anche una carta che parla non di coppia perché se no veniva il due il tre di coppe è già un po' più affollato quindi significa che qua ripeto c'era veramente proprio della gente che come dire consigliava si intrometteva si informava diceva faceva incoraggiava scoraggiava insomma si ci metteva gente di mezzo quindi in qualche modo quando questa persona si è messa con te a dire la verità probabilmente diciamo ha festeggiato con gli amici perché non so se ha fatto una scommessa ma ad ogni buon conto parliamoci chiaro diciamo ecco non voglio dire che sia andata a vantare ma certamente diciamo ecco è andata come dire ecco a dire caspita vedi che non sono uno sfigato guarda un po' con chi mi sono messo qua e là no con questa donna che è un nove di un nove di denari però poi qua con questo papa probabilmente ecco questa persona è risultata o ha portato delle risultanze affettivo sentimentali nel rapporto che erano probabilmente un retaggio di un matrimonio o di un retaggio di un certo anche bigottismo permettimi di dire perché come se vedi con questo papa no è come se dettasse un po' la morale dice tu come donna per esempio come ti comporti non sei come dire ecco non fai le cose che dovresti fare ecco perché ti vede come Mary Field dice questa che è la rivoltella dice che donna è non mi devo spaventare che sotto la gonna che cosa tiene questa qui no quindi vedi è come se non dico che volesse colpevolizzarti però c'è stato un giudizio morale in questo senso su di te proprio legato appunto ad un certo permettimi di dire bigottismo quindi una mancanza di apertura mentale nei tuoi confronti e anche di giudizio insieme ad una ad un pregiudizio di partenza ok vediamo le azioni da parte tua le azioni da parte di questa persona allora da parte tua qui abbiamo questo due di denari poi abbiamo ecco l'otto di di coppe e anche il cavaliere di coppe l'imperatrice cinque di bastoni qua escono due carte nove di coppe e tre di denari a fondo mazzo abbiamo il cavallo di spade qua sembra che che ve ne siate dette diciamo ecco forse diciamo ci siete andati un po' pesanti con le parole o comunque per il mezzo c'è stato qualche tipo di litigio un po' pesante un po' una certa aggressività proprio magari ecco per qualcuno che voleva prevaricare abbiamo qua questo cavaliere come dire ecco che va nella tua direzione quindi probabilmente proprio questa persona è stata un po' pesante verso di te guarda le azioni le tue a dire la verità in qualche modo ecco tu non hai dato certezze al cento per cento perlomeno all'inizio almeno da parte tua ci hai provato vediamo come vanno le cose se le hai prese un po' così hai un po' valutato sei stato un po' al gioco poi a quanto pare qua con questo otto di coppe ecco lì dove magari doveva iniziare o ci doveva essere una partenza in realtà è come se ci fosse stato un abbandono quindi è come se o tu ti sei tirata indietro o questa persona ti ha dato un'abbassonata che è stato proprio il fatto che ti ha lasciato senza spiegazioni senza niente chissà che ti ha combinato questo qui quindi proprio ti ha dato come dire ecco la pillola dell'abbandono per vedere magari ecco come reagivi in questo senso quale sarebbe stata la tua reazione già questo è un modo una mancanza di rispetto parliamoci chiaro è qualcuno che già fa una sorta ecco di aggressione per dire qui qua l'ho detto io le regole ti prendo quando voglio io ti vengo a cercare quando voglio io dopodiché vediamo se mi lasci visto che io magari ecco per una settimana non mi sono fatto sentire oppure se mi viene a cercare se mi corri dietro e hai paura che magari mi è successo qualcosa e niente a dire la verità proprio magari ecco questo atteggiamento un po' così ti ha portato in effetti a convergere nella direzione di questa persona quindi comportandoti quindi quasi come se tu corteggiassi questa persona quindi complementare al rapporto e dandogli assolutamente diciamo ecco importanza il cavaliere di coppe è anche una persona molto generosa quindi sicuramente tu hai dimostrato anche più del sentimento che effettivamente provavi questa persona invece nei tuoi confronti all'inizio vedi con questa imperatrice ecco l'imperatrice è come Dio ve lo dico sempre quindi questa persona si è portata ad un livello come vedi io non corro dietro a nessuno partiamo partiamo già da questo presupposto quindi qualcuno che usa l'intelligenza usa un po' l'arte anche della seduzione in questo senso ha centomila idee in questo senso per crearsi le situazioni senza nemmeno sbattersi troppo perché in qualche modo ha la sua esperienza ha un certo applomba magari anche il suo fascino quindi si è comportato un po' così come un figo probabilmente no? dopo abbiamo il 5 di bastoni e come vedi qua inizia la competizione qualcuno che vuole imporre qualcosa all'altro l'atteggiamento sfidante l'atteggiamento di chi vive il rapporto con i conflitti portando alla rivalità volendo per esempio se a te va di mangiare la pizza e lui ti dice no andiamo a mangiare pesce se a te ti va di mangiare un arancino a questo gli va di mangiare sushi cioè apposta proprio facendolo apposta per vedere nel tesserino raccogli punti tutte le volte che ti rinunciavi e tutte le volte che lui poteva mettere un bollino quindi uno quando si trova col tesserino pieno si capisce chi è che comanda chi è che ha più peso ecco poi è successo questo diciamo che questa persona a dire la verità ha provato come dire con le brezza diciamo ecco dell'amore ma non donativo ti dico la verità perché il nome di coppe è una carta che parla di una felicità legata al piacere al proprio godimento personale quindi si sentiva sicuramente ecco molto attratto da te ha capito che stava bene con te quello che gli arrivava da parte tua davvero lo faceva stare bene però come vedi qua abbiamo ancora una carta che ci può parlare di interferenze o di comunque ecco pretese collaborazioni diciamo che questa persona avrebbe dovuto collaborare e invece a quanto pare era troppo presa dal suo essere soddisfatto non come dire ecco magari confrontandosi con quelle persone si vede proprio qui perché da te i confronti non ce ne sono e magari appunto valutandoti come una Mary Field anziché come una Mary Curie per dire no ok quindi come una donna che tu sei bellicosa che prendi la rivoltella anziché ecco una persona che alla fine vuole stare con chi la sceglie con chi l'apprezza con chi la stima con chi ne riconosce il proprio valore allora vediamo un po' quali sono in questo senso come dire potremmo dire i messaggi o le allusioni ecco dell'universo rispetto proprio al vostro rapporto a quello che può esserci stato tra voi vediamo cosa ci raccontano queste carte cosa dovresti sapere oggi in merito a questa persona vedo se sto registrando direi di sì ok vediamo un po' è un po' difficile prendere queste carte ma ci riusciremo ok guarda un po' caspita guarda questo è un aspetto che adesso ti narro ma non so se su questi aspetti ti sei soffermata magari qualcosa l'hai capita perché in realtà il gancio di questa persona all'inizio è stato proprio quello del vittimismo se ti ricordi l'avevo detto prima no allora vedi qua abbiamo una figura che potrebbe essere una figura come dire ecco materna e abbiamo come dire ecco un bambino che poi non è un bambino questo è un adulto a dire la verità che in qualche modo ha bisogno ancora della mamma di qualcuno che si comporta come la mamma che riesce a gestarlo e a gestirlo per farlo mettere in piedi come un uomo perché questo tende a fare fondamentalmente la persona che ancora deve venire alla luce che ancora deve come dire che ancora si deve prendere le responsabilità di respirare autonomamente che è quello che uno fa appena nasce ti metti a respirare perché se non respiri non muori cioè non campi muori quindi una persona un po' che quindi tende a essere può darsi anche che delle interferenze in un qualche modo siano arrivate anche per esempio dalla mamma quindi da una figura in questo senso con la quale c'è un attaccamento viscerale qua c'è anche vedi qualcuno che in qualche modo ecco le interferenze ci sono state perché questa è una persona che magari ecco o in passato ha subito un po' come dire ecco il giudizio delle persone della società si è sentita un po' come dire accerchiata e per degli errori che ha fatto se li ha fatti per dei giudizi che ci sono stati su di lui e quindi ha interiorizzato questa cosa portando il giudizio e l'accerchiare qualcuno in questo caso te a paradigma di quello che va fatto di quello che va bene di quello che è giusto anziché emanciparsi da una cosa di questo tipo perché qua è come se una persona come dire viene messa in mezzo e viene appunto schiacciata dal peso del giudizio sociale e si vede che questa persona ha applicato questa regola a te quella del giudizio sociale ecco perché si andava a confrontare con gli amici con la con la con la tribù magari con la mamma pure no? facendo chissà magari anche dei paragoni ma la mamma è la mamma la fidanzata è un'altra cosa la moglie la compagna quella che è qua abbiamo qualcuno che vedi arriva con i tasti del pianoforte è una persona che potrebbe comunque in ogni caso avere sempre un po' per le mani la stessa sinfonia scalcagnata perché come vedi questo è un pianoforte in un campo dove sono cresciute le erbacce quindi dice un po' sempre la stessa filastrocca sa sempre quelle quattro cose ripete sempre un po' se vogliamo ecco San Martino Campanaro non so se si chiama così e vedi è perché è il suo modo di lanciare al mondo un suo segnale un suo messaggio è una persona che non ha in realtà un vero e proprio equilibrio e non è accordata come persona proprio come uno strumento musicale non ha nemmeno una struttura che la contiene a dire il vero ecco perché cerca in qualche modo di trovare la sua collocazione nel giudizio sociale perché evidentemente da solo non non è una persona che si mette a pensare da solo gli interessa quello che pensa la gente e qui fondamentalmente ecco si vede anche che questa persona potrebbe magari dare l'impressione come questi soffioni no di essere una persona come dire colleggera di essere una persona potrebbe essere una persona anche volubile e magari tu questa volubilità l'hai colta ma allo stesso tempo inconsistente e passare da ottave alte ad ottave molto basse qua abbiamo una carta che ci parla ecco di viaggio e di tramonto sembra che sia anche una persona che in qualche modo a parte si è viaggiato molto nella sua vita o poco o c'è un evento determinante legato magari ad un abbandono che ha costituito anche magari che so un evento traumatico nella sua vita o un distacco o vivere i rapporti importanti con un certo distacco e magari stando lui come dire in un territorio di mezzo cioè con la testa per aria in quelle zone che sono di passaggio qui è come se abbiamo ecco una persona che ancora lo deve completare questo viaggio ancora lo deve capire ancora lo deve comprendere quindi non è risolta rispetto a questa situazione che è contemplata da questa carta ma trattandosi di carte metaforiche anche voi osservandole sicuramente potrete leggere o potrete sentirvi ispirati nel in qualcosa diciamo che sicuramente ecco vi risuona qua abbiamo vedete una stazione della metropolitana quindi vedi le città si caratterizzano anche per il fatto di essere a volte dispersive rispetto a un paese dove ci si conosce tutti e vedi qua abbiamo come dire ecco un treno che passa è lui che è come una persona che ancora aspetta il suo treno a dire il vero però è come anche colui che dice voglio essere io il treno per qualcuno capito come se volessi dire gli altri devono aspettare me io voglio essere il treno per qualcuno io mi voglio sentire in questo senso importante per qualcuno che mi aspetta voglio vedere se qualcuno ecco mi aspetta se per qualcuno posso essere un mezzo per andare avanti che si fida di me ok che si sente di andare di luogo in luogo come dire ecco o a livelli di stazione in stazione successivi nel mio nel rapporto con me però è anche vero che vedi qua si vede un orologio è anche vero che questa persona come dire ecco in realtà è come se non arrivasse puntuale qui abbiamo una persona che sta vedendo cioè questo è il mio treno o non è questo il mio treno quindi in realtà è come se arrivasse in ritardo è proprio come se arrivasse in ritardo è come se si facesse attendere è come se volesse sentirsi desiderato quindi insiste anche questo aspetto della della sua psiche della sua personalità vediamo adesso con le sibille cosa si vede è come se Non. No. No. Ok, allora partiamo da un presupposto, qua abbiamo la matrice, quindi cosa c'è per il mezzo qua tra di voi? O perlomeno il quesito tra voi due è ma questa persona ricambia i miei sentimenti oppure no? Oppure io sarò in grado di ricambiare le pretese, i sentimenti, quello che pensa o dice di provare questa persona per me oppure no? Quindi c'è fondamentalmente una sorta di dubbio che c'è tra tutti e due, attenzione, e quindi attualmente le cose stanno così, vedi cos'è che questa persona sente per te? Qui abbiamo la carta del pensatore, come se un po' questa persona, diciamo ecco, sente, più che sente sta ragionando, se la sta pensando più che altro, è come se ci sta a rimuginare, non tanto sui sentimenti ma su quello forse che senti tu per lui, su chissà se posso rimediare a quello che ci può essere stato, che ha diciamo in qualche modo ecco determinato o una rottura, un allontanamento, una presa di posizione, no? Quindi sente che ancora ci pensa, ci pensa, sta architettando probabilmente ecco qualcosa, che non significa che ci sta riuscendo ad architettare qualcosa, ma la testa ce l'ha là. Ti dà conto cosa prova per te, qua abbiamo la carta del dispiacere, vedi la carta del dispiacere ha a che fare con una notizia, una brutta notizia, è come se questa persona fosse un po' delusa, prova un senso di amarezza, di delusione, di rabbia, di per evidentemente cose che forse sono state dette o fatte da te, che magari diciamo che non se l'aspettava, e che evidentemente hanno un po' cambiato le sorti di quelli che mi pensavo potessero essere invece le sue aspettative, i suoi stati d'animo. Dice io proprio non me l'aspettavo, io non immaginavo che le cose potessero prendere ecco una certa piega o che tu avessi un certo tipo di carattere come sta Mary Field, no? Tieni da conto che comunque in linea di massima questa persona ha una buona opinione di te a dire il vero, perché pensa che tu comunque hai dimostrato disponibilità, hai dimostrato accoglienza, hai dimostrato la capacità di ascoltare, di capire, di non giudicare. Quindi questo a dire il vero non se l'è dimenticato, anzi lo tiene proprio bene a mente, ben chiaro. Quindi è anche vero che rispetto magari ripeto a questa rabbia e a dice ma come se in fondo è così, come è potuto accadere tutto ciò? Ti percepisce qua come, questo sarebbe nei tarocchi l'arcano maggiore ecco del diavolo, quindi ti percepisce come qualcuno che in un momento come dire cos'ragionava, mettiamola in questo modo, che è anche difficile da domare, se così si può dire, ma non è tanto il domare, no? Difficile da farti cambiare idea, difficile da renderti in qualche modo ecco dipendente rispetto a quelle che sono le tue prese di posizione, cioè è come se secondo lui, no? Tu vai avanti, se hai ragione, come dire cos'è quando si dice io se ho ragione mi faccio ammazzare, in questo senso, cioè se tu hai ragione, secondo lui praticamente non molli l'osso, quali azioni ci saranno? Guarda, al momento sembra che azioni non ce ne siano, sia perché ancora questo non ha ben chiaro come la deve risolvere la cosa, se la può risolvere tra le altre cose, perché a quanto pare tra l'altro comunque si pone anche il punto, dice ma forse tutto dipende dal fatto se prova dei sentimenti o se ci possono essere dei sentimenti effettivamente tra di noi, e quindi è così sulla difensiva, non dico sulla difensiva come se tu dovresti proporti o fare qualcosa di questo tipo, però è per i fatti suoi questa persona e non ha idea in questo senso ecco di esporsi, o di far capire o di emergere in qualche modo, di creare un contatto, di venirti a cercare, di incontrarti nemmeno per caso, è proprio per i fatti suoi, a meno che proprio addirittura non è, voglio dire, è un posto dalla quale non si può nemmeno spostare, non so se è una scelta o se è proprio una situazione, come dire, coercitiva, però questa persona in questo momento da qui sicuramente, dico non si muove, ed è una situazione come dire, è quasi un bunker questa casa, perché è un portino, le porte e le imposte sono chiuse, da qui non si esce, quindi ecco significa che non ci saranno azioni, non escono azioni da questa casa, e neanche ne entrano a dire la verità, quindi anche se ci potessero essere da parte tua. Quale pensa che sia la tua posizione verso di lui? Ecco, qua abbiamo, come ti dicevo prima, una persona che dal suo punto di vista tu sei fedele ai tuoi valori, ai tuoi principi, sei una persona sicuramente di ampi vedute, sei una persona che trae le cose positive, infatti risulta anche con questa carta dell'amica, da tutto quanto, non ti vede come una persona in questo senso vendicativa o livorosa, proprio perché in qualche modo ecco tu non ti comprometti con qualcosa che non vuoi fare, tu non fai una cosa che non vuoi fare, ragion per cui, dice questa, alla fine, dice io magari volevo che facesse delle cose, non le ha fatte, non le ha volute fare, ed è rimasta fedele a se stessa, quindi più fedele a se stessa che complementare alle sue esigenze, alle sue richieste, a quello che magari vorrebbe lui. Cosa desidera? Guarda, qua abbiamo la carta dell'innamorato, questa persona vorrebbe cantarti come si suol dire, ecco la serenata in realtà, cioè vorrebbe, vedi anche la chitarra in questa carta, rappresenta anche in un certo senso la passionalità, quindi simboli fallici, cose di questo tipo, vorrebbe in qualche modo ecco prenderti sul lato del sentimento, o sul lato della seduttività, perché chi canta la serenata poi fondamentalmente è un seduttore, non è che uno canta la serenata a una persona che è sicuro, che ricambia i sentimenti, qua abbiamo qualcuno che in qualche modo desidererebbe conquistarti, sul piano, ripeto, dei sentimenti, come se, in questo senso, avere la certezza che tu provi dei sentimenti per lui, possa assicurargli evidentemente determinate cose. Tieni da conto che invece teme che ci siano delle interferenze, che ci possono essere delle interferenze, quindi chi di interferenze perisce, di interferenze patisce, o perlomeno il gatto della dispensa, quello che fa, pensa, proprio perché da parte sua ci sono state delle interferenze, delle persone che hanno consigliato, i cui consigli, magari effettivamente parole e opinioni, si sono rivelate poi, come è evidente, diciamo, disastrose, per il vostro rapporto, per il buon esito del vostro andare avanti in questa frequentazione, il rapporto, quello che era, non riesco a chiamarlo proprio amore, 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 perché persone che si chiedono che sentimenti abbiamo, evidentemente non erano andate, non erano arrivate, come dire, a fare una dichiarazione, come dire, di sentimenti o dimostrazioni di sentimenti coerenti, appunto con qualcosa di profondo, no? E quindi è come se pensasse, dice, guarda, questa persona probabilmente ho paura che se si consiglia, diciamo, ecco, con qualcuno, se parla con qualcuno, di noi, di quello che è successo, probabilmente, queste persone si possono mettere, come dire, ecco, di mezzo, possono remare in qualche modo, ecco, contro, non portandoti certamente nella direzione che può essere verso di lui. Cosa sta accapendo? Qua abbiamo la carta della gran consolazione. Abbiamo quattro carte che parlano di comprensioni, e qui carte che parlano di cambiamenti. Allora, cosa sta accapendo questa persona? A dire la verità è come se stesse facendo un po' di legge di attrazione, parliamoci chiaro, senza agire, poi, effettivamente, all'atto pratico. E' come se sta accapendo che tutto sommato nutre una certa fiducia in se stesso, una certa fiducia nel fatto che se è successo che vi siete incontrati, se sono successe determinate cose, se tu hai comunque determinati requisiti, eccetera, eccetera, tutto sommato, non tutto è perduto. E ancora non c'è nulla, come dire, ecco, di scritto sulla pietra, no? Però è come se questa persona, diciamo, ecco, più che se fare qualcosa, o più che se, diciamo, ecco, avere una determinazione nell'agire in questo senso, come se sperasse nella buona sorte, tutto sommato, no? Cioè, per la serie, se è destino, se le mie preghiere, le mie ispirazioni, ciò che io sto cercando di attirare nell'universo, ma uno quello che attira dall'universo, attira la verità, è anche quello che porta dentro. Quindi, uno glielo dovrebbe anche spiegare, forse bene bene che sta legge d'attrazione a questo qua. Però, quindi, è come se contasse prevalentemente sul fatto che può andargli bene o male. Vedi, abbiamo qua una dea della fortuna che poggia su una ruota. Infatti, questa carta richiama anche la ruota della fortuna. Come se, quindi, deve capire se la cosa si può ribaltare e volgersi a suo vantaggio, in questo senso. Ma qual è il suo vantaggio? Il suo vantaggio è che tu ti innamori di lui. È come se questa persona volesse avere la sicurezza per come comprende lui che è l'amore. Come se il fatto che tu hai i tuoi principi e i tuoi valori non ti fai mettere evidentemente i piedi in testa su delle cose sulla quale avrei detto di no, non ti sono piaciute, fosse un minus rispetto al provare dei sentimenti per lui. Probabile che il retropensiero di questa persona è che se tu mi vuoi bene, avresti dovuto fare delle cose, faresti determinate cose, mi correresti dietro, se non lo fai, allora non mi vuoi bene. associasse praticamente quel sentimento a un atteggiamento, se vogliamo, anche adolescenziale, passami il termine, no? Che a volte, per carità, anche le persone adulte si comportano così. Ma evidentemente non è il tuo caso, ma questa persona non associa questo tipo di atteggiamento a te per il fatto che sei una persona adulta, matura, con la tua tempra, con il tuo carattere, con il tuo polso. Ti prende come Mary Field, cioè come una persona, come dire, ecco, ha una certa che fa delle cose veramente fuori dalle regole, fuori dall'uniformarsi e dall'omologarsi alle persone che dovrebbero essere come te, e invece tu ti comporti in maniera totalmente diversa, in una maniera quasi, si direbbe, imprevedibile. Cosa ha già capito questa persona? Guarda, qua abbiamo la carta della disgrazia, e questo corrisponde all'arcano maggiore della torre, con qualche sfumatura in più. Diciamo che ha già capito che il peggio, sicuramente, o peggio di così non poteva andare. Qua abbiamo, come vedete, un edificio che prende fuoco, ma ha anche capito che forse, tutto sommato, una via di scampo ci potrebbe pure essere. Quindi, come dire, ecco, non ha non ha abbandonato l'idea. Si vede che non ha abbandonato l'idea. Ma, ancora, evidentemente, al momento in cui noi facciamo questa stesa, l'agire non è maturo da parte sua. Ecco perché se ne sta per i fatti suoi. E magari non avete più notizie, non vedete nessun tipo di interazione, nemmeno mi piace guardare le vostre stories, niente. o qualcuno che vi viene a riferire, per dire, no? Cosa non capirà questa persona? Diremo mai, in questo senso. Qua abbiamo la carta dell'allegria. Vedi, questa è una carta bella, ma è anche allo stesso tempo una carta con degli appunti d'ombra. Perché, vedi, qua abbiamo la baldanza, la baldoria, così c'è scritto nella didascalia della carta. è come se questa persona non capirà mai che forse dovrebbe avere un atteggiamento un po' più serio, mettiamola in questo modo. O non capirà, come dire, ecco che i tuoi atteggiamenti non sono associabili, in questo senso, a un atto di superbia, di baldanza o di superficialità o di menefreghismo. Perché è come se questa persona volesse un po', diciamo, scaricarsi, se si può dire così, la sua coscienza in base alla rabbia che prova o al senso di frustrazione e delusione per non aver saputo gestire la situazione a comodo suo o come gli avevano anche suggerito certe persone che hanno evidentemente avuto il ruolo di interferenza dietro le quinte, come se praticamente qua la pazza fossi tu. Probabilmente, diciamo, ecco, te l'ha pure detto, dice, ma sei pazza? Ti dà conto che qua abbiamo le carte dei cambiamenti. Qua abbiamo il domestico, questa è una cosa che dovrebbe cambiare. quindi qua abbiamo una persona, vedi, un po' untuosa, mellifla, qualcuno che nasconde delle cose e quindi questo dovrebbe cambiare. È probabile che quello che cambierà è che magari, ecco, questa persona arriva con meno sotterfuggi. Non dico in maniera totalizzante, non dico in maniera totalmente limpida, ma magari, ecco, con qualche sotterfugio in meno, perlomeno se vuole ottenere qualcosa perché credo che l'abbia capito che qua non ci trippa per gatti da parte tua. Però, ecco, questa è una cosa che tra l'altro le carte mi dicono che cambierà. Qua abbiamo il mercante. Se questa persona, come vedi, in passato magari ha tirato un po' troppo la corda per averla, diciamo, ecco, più dalla sua parte che, diciamo, a metà e metà, 50-50, ecco, adesso, questa persona, sicuramente, nel momento in cui le cose cambieranno, non arriva più con quell'atteggiamento di chiusura di chi vuole vendere o vuole vendere se stesso a scatola chiusa. Stavolta, la merce la deve, diciamo, ecco, se vuole trattare con te, la merce la deve esporre. Si deve vedere se è persona, come dire, ecco, di valore, se ha da offrire scatola chiusa, magari vuota, senza niente o con merce variata, oppure con delle cose che effettivamente tu puoi apprezzare, quindi una persona che dovrebbe cambiare, diciamo, ecco, non dando per scontato che deve essere amato, ma anche farsi vedere che è una persona amabile. tieni da conto che questa è una cosa invece che non cambierà. Vedi, qua abbiamo la carta del ladro. Magari è proprio un'attitudine di questa persona ad essere un po' così furbetto, però, vedi, anche una furbizia, ripeto, legata, un po' forse un atteggiamento, come ti posso dire, è come se gli mancasse un po' una certa classe a questo qui, no? Infatti, magari, ecco, vedi, non riesce neppure a pensare totalmente da solo, senza, non dico il condizionamento, perché non è un vero e proprio condizionamento, ma una ricerca di un'approvazione sociale legata a quelle interferenze, in maniera tale che siccome io così non penso e adesso è costretta a pensare, perché evidentemente tu esuli dalle esperienze di tutti gli altri, quindi non fai in questo senso, ecco, non c'è storia che si possa applicare a te, in questo senso tu sei evidentemente un articolo nuovo, a quanto pare, quindi, è come se questa persona, cos'è che non cambierà, che ci riproverà, lì dove è uscita dalla tua vita, dalla porta, in qualche modo, ecco, proverà di entrare dalla finestra, magari sempre, diciamo, ecco, approfittando di un tuo momento di distrazione, approfittando di una tua vulnerabilità, di una tua debolezza, ma considerando, ecco, sicuramente, che comunque ha una forte determinazione a avere, come dire, anche un vantaggio, in che senso, questa persona il valore te lo dà, te lo dà, ti avrà detto pazza, quello che puoi, magari, ecco, gli piace pensare che tu sei come Mary Field, però una cosa l'ha capita, che tu esigi rispetto e su questo non molli, e quindi, in qualche modo, ecco, ti dirò, comunque questa persona ci riproverà, ma ci riproverà comunque anche per vedere se riesce a mettere in atto sempre la stessa cosa, ecco, questa è una cosa che non cambierà, che probabilmente ritornerà ad uscire dalla porta, eventualmente anche se lo fai rientrare dalla finestra, anche questo è pure vero, perché c'è comunque, ecco, un'entrata, un'uscita, c'è una sorta di circolo, quindi se questa persona ripete lo schema, lui, ovviamente anche tu ripeterai lo schema, questa è una cosa che invece non vuole cambiare, qua abbiamo la carta della donna di servizio, è come se questa persona volesse accaparrarsi la tua fiducia, volesse che tu ti fidassi di lui tanto da tenere da conto le sue opinioni, i suoi ragionamenti, i suoi modi di pensare, se lui per esempio ti dice, ti faccio un esempio, ti porto io la macchina dal meccanico e magari tu dici no, la porto io domani, ma io ce la sto portando fra un attimo, cioè è come se questa persona volesse che in qualche modo ecco tu gli dai retta, che tu in questo senso gli dai peso, ma evidentemente ecco qua si vede anche che tu un pochetto Mary Field forse poco poco lo sei anche, cioè nel senso che sei comunque una persona che non vuole pesare sugli altri, che vuole fare le cose ecco da sola, per lo meno fino a che c'è questa fase del rapporto nella quale evidentemente forse anche tu perché stiamo vedendo lui non stiamo vedendo te, non è che ti fidi poi ecco più di tanto a fronte magari di determinate cose che evidentemente non ti sono piaciute se hai mostrato se hai mostrato e non lo sei il volto come dire ecco di Mary Field cioè di quella che cammina con la rivoltella nel senso che magari hai detto ma tu dove credi di arrivare dove credi di andare ma calma stai buono stai al tuo posto quello che si capisce è proprio ecco qualcosa che ha a che vedere con tutto ciò allora io adesso ti faccio un'ultima stesa e ti dirò più o meno se c'è la possibilità che le cose tra voi due cambino nel senso che magari ecco se questa persona poi in realtà farà qualcosa ecco di concreto dopo essersene stato non so per quanto tempo non so da quanto tempo lì barricato come dire ecco in tenuta di sicurezza messo in sicurezza mettiamola così vediamo cosa succede spettato un secondo che prendo le carte mi sono sentita così di prendere questi tarocchi napoletani vediamo un po' cosa ci dicono visto che questo è un po' così farfarello allora vediamo un po' se ci saranno quindi uno sblocco delle azioni più concrete e più precise quindi andiamo al di là delle intenzioni che più o meno qui le abbiamo capite le abbiamo intese che sviluppi quindi ci saranno se ci saranno delle azioni concrete scusate sono soft touch è un po' complicato prenderle sì è una carta ok ok beh direi beh direi che arriveranno sicuramente diciamo ecco a fondo mazzo qua abbiamo il messaggero e qui abbiamo anche che qualcuno comunque ecco che anche lì dove ti arriveranno delle notizie a dire la verità semmai ti verrà riferito ecco qualcosa guarda anche in questo caso sarà un po' una provocazione per vedere un po' tu come reagisci se con indifferenza più o meno al momento in cui questa persona deciderà di uscire allo scoperto più o meno farà un assaggio della situazione attraverso proprio ecco un messaggero attraverso qualcuno che ti verrà a riferire delle cose e questa persona praticamente ecco a dire la verità ecco si presterà ad un gioco quindi ancora una volta ci sono in qualche modo ecco degli impiccioni delle interferenze che non sarebbero delle interferenze in questo caso diciamo sono mandati quindi le carte intanto ti dicono fa attenzione che significa significa che comunque c'è dietro una strategia giusto quella che questa persona comunque sta pensando di fare eccetera eccetera però tieni anche da conto che tu ti puoi giocare pure tu sapendolo in largo anticipo al momento in cui ti arriva sta persona tu puoi decidere come dire ben sapendo che quella lì è una sorta di esca in base a quello che ti dirà di giocartela anche tu questa carta dell'esca e di utilizzarla evidentemente anche tu per un tuo vantaggio o chissà magari anche tu per fare una tua manipolazione una tua strategia perché no allora comunque in ogni caso qua abbiamo rispetto alle azioni un viaggio abbiamo praticamente ecco vedi un esca dopo l'esca questa persona viene nella tua direzione per praticamente parliamoci chiaro per riprendere come dire ecco il rapporto con te per mettersi insieme a te per dichiararti il suo affetto ok parliamoci chiaro qua non è una stesa che dice che questa persona è innamorata cotta folle di te assolutamente no deve essere chiaro o vuoi perché appunto si è messa un po' sulla difensiva e dice io questa persona mi interessa e quello c'è sicuramente questa persona per delle cose mi piace l'ho puntata non vorrei perderla questo è evidente però non è perché questa persona ha perso la testa per te anzi la tiene proprio bella attaccata sul collo a dire la verità in qualche modo anche vorrebbe che in qualche modo cambiasse la tua testa per tu adeguarti o omologarti a un certo tipo di sistema che evidentemente per questa persona è come dire vangelo però sì questa persona si sposta perché evidentemente avrà o come dire avrà fiutato subodorato che c'è la possibilità o un affetto da parte tua per mettersi insieme a te per rimettersi insieme a te però quindi ovviamente risultando per lui buona notizia dove in qualche modo ritiene di avere quindi potere di poterci riuscire di essere in comando di non prendersi un rifiuto ok questo può significare in base ovviamente a quello che pensi tu che nel momento in cui qualcuno ti viene a mettere il termometro per vedere come la pensi tu puoi decidere anche di fare il tuo bluff di fargli credere come dire che tu ti vuoi che ti interessa che ti manca deciderai tu come giocarti la carta e se te lo vorrai sbolognare poi di persona facendogli fare la figura del pillirino libera di poterlo fare oppure sappi che comunque questa persona da lì intende ripartire con te ben sapendo che potrebbe riattuare attenzione gli stessi schemi adesso ti dico qui una carta come consiglio che è un messaggio per te da parte degli angeli ecco qua già la carta è voluta uscire da sola guarda guarda un po' e vabbè l'avevamo detto un istante fa qua c'è per il mezzo una storia d'amore però dipende da te dipende da te quindi non è detto che ritornerete assieme come ti dicevo prima l'avevo anche io subodorato dipende da te da quello che tu deciderai di fare anche da quanto tempo ci metterà questo qua parliamoci chiaro perché è una certa anche i sentimenti da parte tua potrebbero ecco svanire potrebbe arrivare un'altra persona e c'è anche un punto in cui questa persona in qualche modo ha paura che questo possa accadere però è anche abbastanza fiducioso in questo senso o perché gli vengono riferite delle cose e tu non lo sai non le immagini neppure per cui in qualche modo ecco se la sta prendendo proprio comoda questo è tutto amica amico fammi sapere il tutto come ti risuona questo è il messaggio per te e spero che il video ecco ti sia piaciuto ti sia servito se è così lasciami un like fammi sapere come ti risuona ecco nei commenti ovviamente per non può essere magari ecco come dire ecco tutto su misura ma tieni da conto che ovviamente qualcosa che ti risuona sicuramente l'avrai ascoltato l'avrai sentito e basati evidentemente ecco su quello per chi non è iscritto iscrivetevi al canale vi do appuntamento per un prossimo video qui sempre su luna rossa ok a presto ciao ciao